Non ci posso proprio credere, sono finalmente arrivato al McDonald's, ho fatto davvero tantissima strada per poter venire qui. Per fortuna nessuno vuole tentare di sorpassarmi mentre sono in fila. Ehi tu, Peter fermo. Quello è Sans, dal celebre videogioco Undertale, i suoi mistici poteri lo rendono assolutamente fuori dalla tua portata. Faresti bene ad ascoltarlo. Apprezzo molto il tuo consiglio Cloud, ma qual è il senso della vita se non lotti per i tuoi ideali? Sans sarà pure più forte di me a livello fisico, ma quanto è bravo a utilizzare un Keyblade? Peter no, dannazione, è potentissimo, è come se fosse un... Maestro del Keyblade, sei stato uno stolto a sfidarmi senza conoscermi. Nooo. Peter ho cercato di avvertirti, avresti dovuto ascoltarmi fratello. Avresti dovuto ascoltarmi.